Giovedì 12 aprile a Palazzo Mosconi alle F alle 20.30 verrà presentata la guida Val Gandino in mountain bike. L'autore è Gian Pietro Mosconi che è qui con noi. Vogliamo chiedere a lui come è nata l'idea di questa guida per predisporre dei percorsi dedicati a chi pratica questo sport. L'idea è nata per la passione che ho per la mountain bike a livello amatoriale da qualche anno. Navigando su internet ho visto che in Val Gandino non c'erano presenti percorsi disponibili e per circa un anno e mezzo con l'aiuto dei compagni di viaggio ho mappato il territorio cercando di raccogliere più informazioni possibili per creare più itinerari possibili da poter proporre agli appassionati di mountain bike. Spieghiamo com'è strutturata questa guida. La guida è strutturata in modo da poter dare all'appassionato di mountain bike tutte le informazioni che riguardano le nostre montagne e i nostri comuni. Sono presenti 13 percorsi in mountain bike di vario grado di difficoltà. Non sono adatti alle famiglie, questo è importante, e sono dislocati tutti nelle cinque terre della Val Gandino. Ogni percorso ha delle informazioni precise e dettagliate. Una traccia GPS, un'altimetria con il grado di difficoltà. C'è un giudizio mio, personale, per quanto riguarda il percorso, in modo da poter dare all'appassionato di mountain bike delle informazioni utili per riuscire ad affrontare al meglio il percorso. Chi fosse interessato, dove può trovare questa guida? La distribuzione di questa guida è una distribuzione mirata. La troverete sicuramente negli uffici turistici in tutta la Val Seriana, nelle biblioteche dei cinque comuni della Val Gandino e anche agli sponsor presenti su questa guida. Importante sottolineare che la guida è gratuita. Sì, la guida è stata una scelta, è gratuita, a livello gratuito per tutti. Si può anche consultare via internet al sito www.leffgiovani.org dove è anche possibile scaricare la traccia GPS in modo gratuito.